La tua parte in base a che cosa è stata fatta? Perché come azienda ospedaliera noi siamo... Grande qualità, grandi numeri e capacità di risposta. I dati sul piano della performance 2018 presentati oggi da Marche Nord sono molto positivi e sono segno dell'efficienza di questa azienda ma anche di come le risorse aggiuntive abbiano generato valore. Così il presidente della regione Luca Ceriscioli nel corso di una conferenza stampa a Pesaro durante la quale sono stati presentati i dati del bilancio dello scorso anno. Marche Nord ha detto è un esempio che coniuga efficienza e qualità delle cure che offre ai pazienti. Più produzione per le agende per l'istartesa, un 40% in più che segna un basso in avanti importante al servizio dei cittadini marchigiani. Un costo per degenza fra i più bassi in assoluto, 4.000 euro contro i 5.000 e passa della media. Una capacità di produzione che ha dato un utile, che non sono soldi in più ma è solo il valore di quello che si è prodotto, di 32 milioni in un anno. Tutti indicatori che segnano un lavoro fatto con grande qualità. L'efficienza, la capacità di dare di più quando si mette qualcosa dentro una macchina. In questo caso questo di più è assolutamente significativo. Il presidente ha poi fatto notare i 47 giorni in media per i pagamenti alle aziende. Siamo in un paese, ha detto, dove in altri territori la sanità paga anche a distanza di un anno. Questa efficienza, ha proseguito, consente di far girare l'economia a vantaggio di tutto il sistema. Marche Nord è stata definita un'azienda virtuosa e i numeri della struttura di emodinamica ne sono una dimostrazione. Essere nella top 10 di 267 reparti italiani fa capire la qualità delle cure. Al fianco di Ceriscioli questa mattina erano presenti il direttore amministrativo Dara Isci, il direttore sanitario Berselli e il direttore generale dell'azienda ospedaliera Maria Capalbo. Performance vuol dire aggregazione, mettere insieme quelle che sono le dimensioni dell'appropriatezza clinica, quindi dell'efficacia, dell'appropriatezza organizzativa, quindi dell'efficienza, l'umanizzazione, la qualità percepita e la sicurezza delle cure. Noi abbiamo lavorato secondo quelle che sono le indicazioni regionali, perché questa regione ha molto lavorato sull'abbattimento delle liste d'attesa. Marche Nord ha fatto nel suo piccolo la sua parte, tant'è che questo lavoro era incominciato già dal 2017 e già dal 2017 rispetto al 2016 aveva aumentato l'attività del 20% in più. Nel 2018 abbiamo aumentato ulteriormente del 20% in più, andando a lavorare analiticamente su quelle che erano le criticità, ovvero lavorando sulle classi di priorità, sull'urgenza che deve essere erogata entro 72 ore, sulla prestazione B breve che deve essere erogata entro 10 giorni, sulla D che deve essere erogata entro 30 giorni per le visite e 60 giorni per le prestazioni strumentali. Sull'attività del pronto soccorso invece, misurata in termini di accessi registrati nell'ultimo triennio, il trend è in forte ascesa. Si è passati da oltre 78 mila del 2016 a 87 mila accessi del 2018. Cresciuti anche gli investimenti sulla tecnologia, oltre 40 milioni sono stati destinati al miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni. Ne sono un esempio l'acquisto del robot Da Vinci, la nuova centrale di sterilizzazione e le TAC di ultima generazione. L'efficienza vuol dire dare più servizi ai cittadini, darli con maggior qualità, avere un piano della performance che ha dato risultati così significativi, significa aver restituto di più ai cittadini di questa provincia.